Oggi facciamo la cheesecake, pronti via! Puzziamo i biscotti nel mixer Versiamo il burro fuso nei biscotti ed amalgamiamo bene Andiamo a compattare bene sulla tortiera E poi la lasciamo in frigorifero a riposare finché non si solidificherà il tutto Scarponi con la nutella e lo zucchero e poi aggiungiamo la panna montata Puzziamo la colla di pesce, la aggiungiamo alla panna e la facciamo sciogliere bene bene Aggamiamo la nutella e il mascarpone con la panna I biscotti sono solidificati, adesso io faccio con la sac à poche perché la voglio fare un po' più carina E andiamo a riempire tutta la base della nostra cheesecake Pronta! Ora la mettiamo in frigo a riposare fino al momento in cui la andremo a gustare Dopo aver riposato in frigo, ecco la cheesecake, la nutella pronta Andiamo all'assaggio! Ed ecco la cheesecake pronta via all'assaggio Mmmmm, che bontà Grazie a tutti.